Salve a tutti ragazzi, eccoci qua, ritrovate in questo nuovissimo video della carriera allenatore insieme al nostro Magico Caleri. Sta tutto in rec, sì. Allora, ci focussiamo subito con le tre partite, che sono Sampdoria, Elas Verona e Inter. Inter è molto importante per quanto riguarda il fatto del campionato, perché siamo sempre quarti, ma praticamente abbiamo l'Inter dietro e dobbiamo allontanarla, però ci penseremo più là. Iniziamo subito con la Sampdoria, che è molto competitiva, quest'anno ho visto, e con i titolari ovviamente. Prima partita di oggi, Caleri, Sampdoria. Quanto è overpower tra ore, tranne nei cross. Raja, mamma mia brutto tiro, comunque penso che questa sia l'ultima stagione di Raja da capitano e titolare. Bello? Bello? Bello l'hai visto? No! Ma, no, malo! Non è possibile! Oh, Bakambu, ogni volta che lo sfido mi deve sempre segnare. Overpower, tonali! Bravo, Cragno! Corri tra ore che ce l'hai, corri tra ore che ce l'hai, incrocia che non ce l'hai. Almada troppo lento, non è un gol al macchinoso. Vai, balo, incrocia, balo! Madonna, 2-1! Almada! Con l'autogol, ma comunque Almada, voglio vedere se mi ha avuto il gol ad Almada? Si, l'ha dato a lui. Vabbè, ha fatto tutto bene. Si è aperta la difesa. Si è aperta la difesa, è finita. Raja, stop! No! Mi approfitto, visto che la palla è uscita, per fare i cambi, i soliti. Cioè, entra Holland ed esce Balo. Esce Traoré, entra Davis, esce Raja ed entra Valverde. Ho appena guadagnato una punizione veramente bella. E Ozlek... Oh, se se ne incarica lui in automatico, io mi fido? No. No. Facciamola battere a Holland, che ho visto, che l'altra volta con la Fiorentina... Non so cosa... No, ragazzi, è buggato il gioco. Oppa là! No, traversa, no! Guardate che visione c'ha, Valverde, per Holland. Che non segna di punizione, ma segna con un bellissimo assist. La Lazio ha fatto un passo falso. Sì, perché ha gli stessi miei punti. Il Milan continua ad arrancare prova avanti. Quindi, di conseguenza, non siamo addebiti a sconfitte. Seconda squadra? Va bene, ma andiamo a vincere. Seconda partita? Verona Cagliari. Il Verona sta tentando di salvarsi. Noi stiamo tentando un dublette quasi impossibile, perché momentaneamente non ho nulla nelle mani. Quindi, siamo in buona posizione. Ma che cazzo mi ha tolto il difensore rovesciata? Ma io mi sono dimenticato una cosa. Armini è recuperato dall'infortunio. E c'è ancora Jesus in difesa. Porca miseria. Vai, Holland. Vai, Holland. Holland. Non è me... In mezzo, meglio. Vai, Holland. Piano... No. Tolto il fatto che la difesa, quella che ho messo, non è la migliore. Perché comunque Armini dà una grossa mano. Io sto giocando con molta spensieratezza. E al 31esimo, questa è la loro prima discesa. Se poi tireranno, non lo so. Madonna, i difensori che mi anticipano sempre amata. Tutto di prima. Un tiro veramente brutto. Ma gli è rimasto davanti. Il portiere non l'ha preso. 1-0. Bravo, Vicario. Il loro primo tiro in porta. E al secondo l'hanno proprio ciccato male. Ah no, l'ha parato qualcuno o l'ha toccato qualcuno? Cerchiamo di non prendere il gol nel calcio d'angolo. No, vabbè, Pajac. Pajac. Ti prego, fammi l'euro goal della vita, Pajac. 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 Meglio di Bruno Perez, Torino Juventus. Dalla difesa. Goal glitch, col pallonetto. No, perché sono un pollo. Bravo, Vicario. Una busta, però sei stato bravo. Regolarissimo. Holland, piazzalo. 3-0. Posso fare i cambi? Ma sì, dai. Allora, fatti i cambi. Esce Valverde ed entra Frago. Esce... Davis, entra Ragazzu. Esce Holland ed entra Lince. Il nuovo della primavera. Ok. Oh, mi sono dimenticato Armini. Di conseguenza Jesus è titolare. Eh, eh. Quelli c'ho. Ma, ragazzi, ne hai fatto tutto bene. Negli ultimi dieci minuti hanno attaccato un po' di più, bisogna dire la verità. Frutto sicuramente anche dei cambi che ho fatto. Perché non avendo Armini, già in difesa siamo traballanti così. Quell'Inzi non sta aiutando minimamente in attacco. Però, non abbiamo ancora preso gol. Però, potevo fare il generoso e far segnare Lince, ma non è ancora il suo momento. Allora, la partita è già finita da un botto, però l'arbitro non vuole fischiare? Ehi, ok, vinta. Bene, allora, con l'Inter poche spiegazioni. Poche spiegazioni perché giocheremo con i titolari. E penso. 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 Sai che ho detto una cazzata, lo sapete. Perché poi abbiamo quanti giorni? Sì. E se giochiamo con i titolari. Anzi, titolarissimi. Titolarissimi. Vi avverto, questa non sarà semplice. Cagliari-Inter terza parte di oggi. Perché l'Inter vuole la Champions League. E vuole strappare l'accesso alla Champions. Proprio passando per noi. E noi abbiamo un'opportunità grande. Beh, perché la Lazio ha fatto un passo falso. Cioè il Milan ha fatto un passo falso. Di conseguenza, uno delle due adesso, non mi ricordo. Di conseguenza possiamo recuperare molto. Si è buca... No, era regolarissimo. Vai, Traore. L'hai visto? Non era per Tonali, ma Tonali segna di mancino. Va bene, lo stesso. 1-0. Che cosa mi hai tolto, mister Alessi e il tuo cranio. Cross e mezzo a Odilek non... Angolo? Sì. Vediamo se riesco a sfruttarlo, ma la vedo... Impossibile saliva. Ui, Balo, bastava il pied... Bastava la testa. Balo... No, Balo, lì devi scopettare con i piedi. Non devi usare la testa. Devi incrociare. Andanovic... No, ci arriva. E ovviamente... Balogol. Cosa mi hai tolto? Andanovic. Comunque Saliba, il prossimo anno... Confermato anche lui per la squadra di totale. L'unico che sicuramente farà parte della seconda squadra sarà Smalling. Non per male, ma perché voglio avere un altro difensore insieme a Upamecano. Di quel valore lì. 84-85. Saliba che tanto ha già 80, quindi salirà. Tanto nella seconda squadra Bushiri è venduto. Bianda mi sa che lo mandano in Brest. E mi rimarranno Armini. Smalling, per l'appunto. E Todibo. Una signor difesa anche lì. Vabbè. Cara Inter. Però tu mi lasci tutti questi spazi. Io di certo non tritare. Che cazzo mi hai tolto a Andanovic? No, Raja. Con una busta estrema. Segna ancora alla sua ex squadra. Se non erro, a giugno lo volevano nuovamente. Ma sto cazzo che ve lo vendo. E giustamente andiamo a fare i cambi. Cioè togliamo... Tonali lo lascio, la verità. Cioè lo tolgo perché ha segnato Nengola. Nel primo video l'avrei tolto. Metto Davis al posto di Traore. E Holland al posto di Dibalo. Bravo Almada. Meglio di nulla. Mamma mia Valverde. Mamma mia Andanovic. Si salta tutti e Andanovic no però. Mamma mia cranio. Secondo tempo non si sono avvicinati una mezza volta. Arriva un tiro. E per fortuna il mio cranietto. Non se lo fa sfuggire e lo piglia subito. E abbiamo vinto. Tre punti importanti. Recuperiamo adesso non mi ricordo la Lazio o il Milan. Distacchiamo ulteriormente l'Inter. E posso quasi dire che la qualificazione Champions è quasi fatta. Allora comunque come gol fatti siamo la miglior squadra. La seconda migliore squadra. Perché comunque la Juve ne ha 93. Poi come gol subiti siamo messi molto male. Siamo con 39 gol. Però 6 sconfitte. 3 in meno della Juve. Infatti sono quei punti che ci distanziano. Distanziano esattamente dalla Juve. 9 punti. Con le 3 sconfitte in più rispetto alla Juve. E vabbè. Allora al prossimo video dobbiamo sfuggire sicuramente il Brescia. Ho visto. Che sta nei bassi fondi. E poi adesso vediamo. Perché ci accingiamo alle ultime 1, 2, 3, 4 pari di campionato. Abbiamo 9 punti. Lo scudetto. A parer mio. È impossibile. Però almeno la seconda posizione possiamo riuscire a recuperarla. Perché abbiamo Brescia, Torino e Atalanta. Bene. Brescia, Torino e Atalanta. Brescia abbiamo visto che praticamente l'ultimo. Torino è decimo. Atalanta è tredicesima. E noi comunque il nostro lo faremo. Poi bisogna vedere cosa fanno le altre squadre però. Bene. Mi è arrivata solamente l'email del resoconto della primavera. E vediamo un po' se c'è qualcuno da mandar via. Tanti da mandar via. Tantissimi da mandar via. Tre. Allora c'è Vasquez da mandare via. Io mi ricordo che uno l'avevo comprato per sbaglio. Addirittura. Costa. Però essendo un portiere potrebbe comunque entrare nei miei favorimenti. A meno che non ce ne sia qualcun altro. E non ce ne sono altri. Quindi momentaneamente come secondo portiere, terzo portiere potrebbe essere utile. C'è questo che un po' mi ispira tutti gli altri. No, vanno tenuti gli altri. Poi vabbè. Offerta ritirata dall'India e dall'Austria. Perfetto ragazzi. Per oggi ho mandato già gli osservatori in Africa. A cercarmi nuovi talenti. E nulla. Per oggi è tutto. Vi lascio il like. Sì, che è il canale se non l'avete fatto. Facebook e Instagram. Come sempre lo avete qua in descrizione. Ci vediamo domani alle 14, alle 15, alle 16. Con la prima, la seconda e la terza parte del Food Champions. E nulla. Vi aspetto domani alle 14, alle 15, alle 16. E buon inizio di settimana. Bella.